Ragazzi, visto che l'estate sta per arrivare, io vi propongo un nuovo allenamento pancia al top. Andiamo! Ragazzi, eccoci pronti per un nuovo allenamento pancia al top in vista dell'estate. Quello che ci servirà è solo il tappetino e una gran voglia di allenarci. Andiamo subito sul tappetino, ragazzi. Con me, con me, con me, pochi secondi per questa pancia al top. Nuovo, nuovo workout. 50 secondi ad esercizio, 15 secondi la pausa. E ragazzi, ci divertiremo perché sono esercizi che ho studiato molto carini e fattibili per tutti. Pronti ragazzi a partire? Il classico. Lavoriamo molto semplice. Schiena appoggiata al tappetino e alterno con le ginocchia e le porta al petto. Attivo l'addominale. 3, 2, 1 e andiamo! Ok ragazzi, questo è il riscaldamento, diciamo, è un'attivazione. Niente di serio, niente di serio perché il bello deve arrivare. Ma sono certo che andrete alla grande. Ragazzi, poi il like, eh, mi raccomando, mi raccomando il like, è fondamentale. Vai! Dici, ma che ci fai con tutti questi like? I like ci aiutano a far crescere la tribù e mi danno a me la forza per continuare a farvi fare, a farvi allenare con il sorriso, eh? A studiare allenamenti giusti per voi. Vai! Forza, forza, forza! Forza, ragazzi! Attiva bene, eh! 3, 2, 1. Ragazzi, il riposo è solo 10 secondi, non è 15. Ok, vado sui gomiti. Ci siamo. Stesso esercizio, solo che questa volta lo facciamo con i gomiti appoggiati. 3, 2, 1 e 50 secondi. E ora già si aumenta l'attivazione, eh? Come senti, è già un altro lavoro. Eh, oggi vi prendo per mano e vi porto all'allenamento punch al top più bello che ci sia. Forza qui, forza qui! Ale! Come va? Come va? Ok. Ragazzi, io fuori vedo il sole. So che ancora manca un po' di tempo per l'estate, però in realtà io quando vedo il sole già mi metto in obiettivo estate, eh? E quindi questi allenamenti sono da fare. Noi ci portiamo avanti col tempo, ci portiamo avanti con il lavoro, ma con il tempo. Vai! Ancora! Qui, forza! Pochi secondi. 3, 2, 1. Ok, il terzo inizia ad essere un esercizio un po' più complicato. Perché? Rimango in questa posizione, la seduto e faccio questo. Alterno, ok? Porto ginocchio e gomito opposto. 3, 2, 1. Si va! Ale! Bene! Ale! Incrocia bene, eh? Ti ho detto che era una punch al top, che non vi aspettate? Io sono sempre di parola! Non a caso sono il beauty fitness trainer! Quindi lavoriamo non solo a livello fitness, ma anche a livello beauty! Vai, ruota bene! Ok, ancora! Forza qui! Sì! Giù! Senti, anche il collo è tranquillissimo! Forza qui! Pochi secondi! Vai! Ha! Tac! Tac! Tieni stretto bene l'addome, eh! Ok, ancora! Vai! Gli ultimi secondi! 3, 2, 1. Dai, quest'altro! Ok, stop! Scendo giù! Appoggio la schiena così la faccio riposare. Ragazzi, gambe su da questa posizione, salgo e scendo, ok? 3, 2, 1. Vai! Su e giù! Stendi bene, eh! Tieni bene schiacciata tutta la parte addominale, vai a fare una vacuum, eh! Quindi il lavoro non è tanto le gambe che salgono e scendono, ma è mantenere qui tutto aderente, la parte lombare è tutta appoggiata al tappetino, vai! Guardi l'aria quando spingo le gambe su! Stendi, è bene, vai! Sì! Bene, bene, bene! Bene, bene, bene! Vai, ragazzi! Vai, ragazzi, che ci siamo! Guarda bene, eh! 90 90 su! 90 su e qui spingo giù! Ok, ancora! L'ultimo! Ok, appoggio le piante, ragazzi! Eh, ci vuole anche lui! Il classico crunch! Intreccio bene le dita dietro la nuca le porto e vai di crunch! 3, 2, 1. Su e giù! Al mio tempo, eh! Fuori l'aria mentre sali, prendi l'aria quando scendi! Quindi, vi do poco recupero, eh, ragazzi! Adesso abbiamo questi due, questo e l'altro, che sono in maniera continuativa! Cioè faremo due minuti di lavoro, no stop! Olè! Olè, dai che siamo poi arrivati al termine! E siamo pronti, abbiamo iniziato a pensare al nostro obiettivo estate! Estate 2024! Olè! Olè, ragazzi! Vai, eh! Fuori l'aria! Sì! Sì, ancora! Uno! Due! Ragazzi, ora salirò sempre in crunch, ma in due tempi e scendo in due! Quindi, salgo, salgo, scendo, scendo! Vai ancora! Salgo, salgo, scendo! Lo blocco, eh! Blocco, 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 scendo, scendo! Ok! Su, su, giù! Quando salgo, espiro fuori l'aria, quando scendo, inspiro, prendo l'aria, vai! Gli ultimi, l'ultimo e gli ultimi secondi rimango piccolo, quindi su, su, su tutto e piccolo il movimento, è qua, vai! Vai che ci siamo, vai che ci siamo! Vai che ci siamo! Come va? Forza! Io sento la parete addominale lavorare, lavorare, lavorare! Ale, ale, ale! Le nostre pance al top! Ma quanti ne abbiamo fatti? Ma quanto sono belli! Tre, due, uno, stop! Ragazzi, l'ultimo esercizio, forse il più tosto in assoluto! Allora, mi metto in questa posizione, di nuovo su, sui gomiti, sulle gambe ragazzi, stendo e torno, ok? Tre, due, uno, cinquanta secondi da ora, vai! Prendo l'aria fuori, prendo, fuori, prendo, a seconda del movimento, guardate, vedete anche il mio busto, di poco, ma a seconda del movimento, come se fosse un crunch con le ginocchia, vai! Forza, eh! Non mollare! Non mollare ora! Pochi secondi, se ti dà fastidio la parte finale della schiena, cerca di stringere forte l'addominale, pancia in dentro forte, forte, vedrai che non senti più il disturbo! Sempre con il sorriso! Vai ragazzi! Pochi secondi! Pochi secondi! E devo dire che pancia al top obiettivo è state! Siamo partiti! Siamo partiti! Eh, ora, ora! Tre, due! Uno, rimango fermo, per quattro! Tre! Due! Uno! E stop! Molto bene ragazzi, complimenti a Lunga Luga per aver portato al termine anche questo workout pancia al top obiettivo! Obiettivo è state! Se ti sono piaciuti questi allenamenti e ne vuoi altri, ti ricordo di mettere like, salvare, commentare, ma soprattutto condividilo nelle tue storie e condividilo, invialo ai tuoi amici! Io ti ringrazio e ti do appuntamento al prossimo workout!